Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo giovedì dedicato a una stampante 3D con un nome un po' strano oggi nel senso che almeno io non l'avevo mai sentita ma è a questo che serve la nostra serie del giovedì come ormai sicuramente sapete tutti i giovedì qua sul canale esce un video dedicato a una stampante 3D diviso concettualmente in tre parti adesso vediamo cosa c'è nella scatola poi Gabriele le assembla e le fa stampare e poi ci dedichiamo al nostro salottino stampanti con la lavagnetta da Top Gear e tutte cose questa è la Voxelab X3 Aquila, Aquila X3 si chiama proprio Aquila in italiano, non lo so hanno messo un intero foglio a 4 per dirci occhio alla tensione e va bene noi faremo occhio allora da che pulpito nasce questa stampante? nasce dal fatto che non tutti vogliono acquistare per ragioni di fatturazione, di tempi di spedizione, di cose varie dai negozi cinesi e quindi spesso mi chiedete se stampanti acquistabili da Amazon questa l'ho presa ieri da Amazon con Prime mi è arrivata oggi quindi ecco il punto di forza tra virgolette nel senso ecco perché la vediamo qua sul tavolo oggi manuale di istruzioni piatto in pay con un lato frost e un lato liscio magnetico, pluff ma senza nessun tipo di guida quindi bisogna un attimo prendere la mira quando lo mettiamo giù per rimetterlo più o meno dritto cosa abbiamo in questa confezione? abbastanza bene organizzata un display ozzo con un sacco di bordi più la rotellina gira e seleziona abbiamo questa che è palesemente la staffa del display essendo una stampante a forma di prusa abbiamo il classico elemento orizzontale con l'asse Y nel piatto che va avanti e indietro qua ho buttato qui in un sacchettino il power cord come si chiama il cavo di alimentazione USB micro e non C qua un buco di sotto che potevano sfruttare per fare un cassettino aprivile sul davanti il blocco dell'estrusore tra l'altro arriva già attaccato già legato al resto della stampante non ce lo fanno attaccare però questo vuol dire che è un po' più soggetto a danneggiarsi ed è un po' più buttato lì molto strano come organizzazione della scatola perché è un po' il contrario di come troviamo le stampanti al solito cioè c'era prima l'elemento orizzontale qua addirittura c'è l'asse Z separato che dovremmo montarci a parte chissà perché cioè sono i due stepper ah no asse X e estrusore comunque dicevo sopra abbiamo trovato l'elemento orizzontale e sotto troviamo neanche l'elemento verticale il fai da te proprio ci sono i profilati di alluminio sciolti singoli da montare perché? perché cosa vi costava attaccare due viti? quindi qua tutti i profilati vabbè poi si divertirà Gabriele anche qua motore ah questo qua è l'asse Z sì con l'accoppiamento staccato, sciolto, ok questo qua è un fine corsa no sì è un handsop un tendi cinghia un fascetto di zip ties un filamento di sample che però è traslucido filamento trasparente che strano PLA filament transparent red non so gli piaceva farlo trasparente figo non ho mai avuto nessun filamento trasparente anche se come sapete vi sconsiglio sempre di usare questi sample di filamento perché i produttori di stampanti mettono filamento di scarsissima qualità e voi avete appena montato la vostra nuova stampante e poi dici no ma non funziona niente ma che schifo di stampante ho comprato ed è semplicemente perché state usando queste robe qua e vabbè queste qua sono le ultime rotelle e dovrebbe essere esatto l'ultimo strato particolare come packaging direi di passare la palla a Gabriele per divertirsi ad evitare un po' di profilati grazie a tutti 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 ed eccoci qua salottino per questa che è l'ultima del nostro periodo a popolare un po' la fascia media queste qua erano un po' le stampanti di fascia media dalla prossima settimana cominciamo con una sfilta di stampanti bomba adesso vedrete non vi spoilerò niente ma una bomba dopo l'altra andiamo a riempire un po' i piani alti ma oggi parliamo di questa un po' anonima sia come estetica sia come io sei dimenticato il nome no no me la ricordo voxelab aquila x3 però si è non vuole appariscendere sì è una stampante generica è una classica chiamiamola ender 3 o prusa i3 che sia è molto molto ender 3 non si distingue su nulla comunque rimane con un prezzo accessibile abbiamo visto nelle scorse settimane in realtà stampanti che forse sono posizionate ancora meglio senza far nomi cobra 2 neo ecco diciamo che purtroppo lei ha settato un grosso standard che è difficile da battere perché ha un prezzo basso come quello questa rimane e offre parecchio già quella questa il prezzo non è alto parliamo di 200 euro come la Bicciu no la Bicciu costava un po' meno però ecco che ovvio rispetto a quella stampante lì ha solo in meno non ha in più vogliamo dirci la tutta vogliamo dire panapane è una stampante che non ha né lode né infamia è una stampante tiepida media oddio non è vero no no vedremo poi nei benchmark che in realtà si distingue fa i suoi punteggi sì 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 non sono sicuro di sapere quanto ha fatto su Autodesk ma mi tengo la sorpresa allora partiamo appunto sempre da Autodesk come il nostro solito totalizza un 19 punti questa un pelo meno precisa nella tolleranza dimensionale quello gli porta via un puntezzino beh lo stesso identico punteggio di Autodesk della cobra 2 neo senza far nomi anche lei è 19 eh sì quella fascia di prezzo lì evidentemente insomma hanno un po' questa problematica che poi è una fascia un po' larga come forbice quindi sì 19 punti buona non benissimo ci si può sempre lavorare questo è alla base della stampa 3D purtroppo sì non il produttore non solo il produttore almeno ma anche chi la compra ci si può lavorare nel senso di farci upgrade nel tempo modifiche cose la scheda sarà sicuramente chiusa ma anche star lì e perderci veramente giornate a calibrarla fino alla morte poi ora che l'avrete calibrata dovrete cambiare bobina e dovrete ricominciare tutte le calibrazioni però sì ecco che sicuramente può dare può dare un po' di più miracoli no però un po' di più lo può dare qualità prezzo tiepida anche lei allora avevamo dato inizialmente un 7 su 10 perché non la sufficienza del 6 su 10 comunque è un distinto non è sufficiente no buono vabbè non so i voti elementari comunque abbiamo dovuto tirare in giù di uno perché le immagini termiche l'hanno tradita l'hanno tradita parecchio perché questo piatto scalda male sì nel frontale abbiamo chiesto 60 gradi dall'immagine che state vedendo nel frontale abbiamo 55 quindi già 5 gradi in meno ma dove 55 è nella parte frontale del piatto nella parte posteriore del piatto raggiungiamo i 50 quindi sono 5 gradi di differenza tra la zona più calda e la zona più fredda così come la neo però è tutto troppo freddo rispetto a quanto richiesto ma soprattutto essere così incostanti crea grossi problemi poi nelle stampe soprattutto grosse io ve lo dico sempre ma non parliamo di stampe ovviamente di dimensioni così questa qui anche se il piatto fosse spento ce la fate lo stesso il problema è quando dovete andare a fare una stampa più grande di 15 20 cm di base d'appoggio ovviamente si comincerà a sollevare quindi 6 se lo porta a casa e comunque di tutto rispetto è un problema sicuramente quello del piatto che non scalda è un problema risolvibile dandole 5 gradi in più come temperatura di stampa invece che metti la 60 la metti a 65 e hai i tuoi 60 gradi effettivi sul piatto se proprio proprio quindi la sufficienza comunque se la meritava sì però attenzione questa è un risolvere il problema ovvio che però la qualità del pezzo cioè la qualità del piatto è bassa la sufficienza quindi poi passiamo subito dopo al rumore il rumore è come tutte le stampanti di questo form factor raggiungi un tren nel senso i motori sono silenziosi motori silenziosi le ventole no ma soprattutto non la ventola di raffreddamento proprio la ventola anche dell'alimentatore stesso appena attacchi la corrente proprio senza neanche che sia partita a scaldare attacchi la corrente comincia a... problemi anche quelli sì per carità di dio potete spendere 20 euro per le noctua però 200 euro più 20 più di qua comincia a essere un po' pesante cominciano ad essere mod che avresti potuto evitarti se la stampante avesse montato delle ventole buone già di base passiamo ad ingombro con un 3,5 e allora perché 3,5 perché il mezzo punto che di solito cerchiamo di evitare perché avevamo la sorella Biciu molto simile che aveva preso 4 punti su 5 questa rispetto alla Biciu è praticamente identica nel senso ha il motore che sporcia di qua un pochettino di tendicinia che sporcia di qua poi per il resto è tutta abbastanza compatta questo adesso l'abbiamo evitato qui ma lo metto un po' più centrale e va benissimo il display il display la Biciu ce l'aveva integrato questa c'era sporgente ed è una sporgenza in più e quindi quel mezzo punto comunque sono 10 sentimenti di scrivania buttati via e non è neanche spostabile questo come mezzo punto dai non è che cambierà la classifica invece parlando di cose che possono cambiare la classifica velocità la velocità cambia adesso in realtà nelle ultime settimane ci siamo un po' abituati a velocità un po' più bassine siamo tornati intorno agli 80 70 100 con questo nostro excursus nella fascia media ecco però forse già nelle prossime settimane potremmo vedere velocità molto più importanti comunque sì rimanano 2 su 5 quindi così mentre per quanto riguarda la speed bench un po' più alti andiamo sul 3 perché quanto speed innanzitutto quanto speed non troppo stiamo intorno all'ora anche per questa bench un'ora di speed bench che ripeto cioè è comunque una bench accettabile è venuta bene è venuta come qualità in realtà va bene ma anche come tempistica un'ora ovvio che è paragonato al resto però comunque la bench è venuta veramente bene e quanto le abbiamo dato 3 su 5 sì la sufficienza anche per questa perché come barchetta è buona il test si chiama speed bench e quindi devi correre è una gara di velocità un po' più bench un po' meno speed mentre appunto andiamo a vedere il calidragon stampa che punta la qualità lui e quello l'ha stampato bene eh sì questa è veramente stampata bene sicuramente molto più lunga come stampa rispetto a qualcun'altra però la qualità è veramente alta su questa state vedendo le foto e quindi lei si porta a casa un 8 su 10 possiamo dire proprio un bel votone questo è bello liscio come pelli le guglie come si chiama le scaglie sono fatte bene i corni sono usciti bene l'occhio la narice tutto come deve essere 8 su 10 per quanto riguarda le feature allora beh ci siamo basati un po' anche sui voti dati in passato lei fondamentalmente presenta il pay l'auto level e basta come feature quindi si pay auto level 6 non di più non di meno sufficienza come anche sufficienza andiamo ai nostri due voti che questa volta non possiamo dire sono molto allineati si è venuto 6 è un po' la stampante la stampante del sufficiente è quel compagno di classe che si impegna studia un po' in classe fa il suo si impegna quel giusto che basta raggiungere 6 no in realtà poveretta si impegna quel giusto che basta cioè ha fatto anche cose di qualità si trova nel 2024 in un ecosistema di concorrenza che è quello che noi dobbiamo contestualizzarla per forza di cose quindi a conti fatti il nostro totale la porta nella fascia qua in questo grande buco che era lasciato tra la b2b1 65 punti e la ender 3 v3 se 53 punti va a colmare beh va in realtà molto più vicino alla bicciu siamo a 62 punti e mezzo che male non sono e buco non l'ho lasciato apposta proprio si è posizionata lì da sola eh sì e mi sa che il buco resterà per un po' perché adesso arrivano i big players ma per questo video direi che potrebbe anche essere tutto per questa stampante vi lasciamo il link in descrizione magari se trovate un'offerta su amazon perché no cioè nel senso avete visto lei stampa comunque le soddisfazioni te le dà beh in descrizione comunque trovate anche il link del canale offerte su telegram magari se dovesse andare in sconto valutatela o questa o altre le trovate tutte ovviamente ve le segnaliamo le migliori offerte giorno per giorno in ambito making quindi stampate di filamenti droni elettroni carduino e pollici in su ai video quelli vanno raramente in offerta ma quando qualcuno li mette gratis sotto i video siamo sempre contentissimi di sapere che questi video vi piacciono signori questa è la serie del giovedì questa è la serie delle stampanti 3d per questo video è tutto pollici in su ciao a tutti beeeem beeeem